Il Pescara da ieri è tornato al lavoro per preparare la ripresa del campionato. Guglielmo Stendardo è il primo volto nuovo che si è aggregato alla truppa bianca-azzurra. L'ex Atalantino è il primo elemento di un nuovo corso che porterà Massimo Oddo a sposare verosimilmente la difesa a tre. Stendardo cercherà di farsi trovare pronto per il primo impegno del nuovo anno, domenica 8 gennaio all'Adriatico Cornacchia, contro la Fiorentina. Ricordando che il 35enne, difensore napoletano, non gioca dallo scorso aprile e dovrà scrollarsi di dosso un po' di ruggine, facendo ricorso magari alla sua esperienza. Contratto firmato è che sarà depositato alla riapertura delle liste il prossimo 3 gennaio, ma è stata una settimana densa per il presidente Sebastiani e il DS Leone per intavolare trattative da chiudere al più presto per dare a Oddo i rinforzi promessi. Sul fronte attacco ci siamo, perante Budimir e Mame Babatiam, c'è l'intesa con la Sampdoria, si cerca quella col giocatore, ma il centravanti croato, asso del Crotone la scorsa stagione, arriverà in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Nel club d'Oriano finora ha trovato poco spazio, Samp che d'altro canto sta trattando col Delfino l'acquisto di Valerio Verre, ad un prezzo che possa garantire alla società bianca azzurra una plusvalenza dopo i 4 milioni spesi in estate per il riscatto del centrocampista. Tiam sta chiudendo la sua esperienza al PAOC Salonico, la Juventus, proprietaria del cartellino, girerà al pescare il senegalese ex Lanciano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Per il centrocampo Massimo Oddo potrebbe accogliere due vecchie conoscenze, un giovane come Rolando Mandragora, in prestito secco dalla Juventus. Si tratterebbe di un ritorno per il gioiellino di Scampia che lo scorso anno ha impressionato tutti fino all'infortunio di Chiavari dal quale si sta riprendendo. L'innesto di esperienza potrebbe essere quello del 34enne Cristian Ledesma, già compagno di squadra nella Lazio dell'attuale tecnico del Pescara. Anche lui ha chiuso un'esperienza poco felice in Grecia, al Panathinaikos, e si riavvicinerebbe a Roma dove si è stabilito da anni con la sua famiglia. Sul fronte difesa, dopo Stendardo, il presidente Sebastiani aspetta l'ok di Cesare Bovo del Torino, già vicino al Delfino la scorsa estate. Col Genoa si lavora per un altro ritorno, quello del terzino Riccardo Fiamozzi, che a distanza di circa un anno potrebbe fare percorso inverso per indossare nuovamente il biancazzurro. La prossima settimana sarà determinante per la conclusione di questi affari. Intanto la squadra, oggi alle prese con una doppia seduta, proseguirà la preparazione. Da lunedì tornerà dall'Argentina a Bizzarri, cui la società ha concesso alcuni giorni in più di permesso. Dopo capodanno si rivedrà al poggio anche il francese Baebec, rimasto a Parigi per ulteriori controlli. Restano da valutare i giocatori alle prese con acciacchi di varia natura. Mitrizza, Pepe, Campagnaro, Fornasier, Brugman e Ghiomber.